Musica Vai, eccolo qua Il primo pescaramanzia Ci sono dei problemi ai server di Milano e anche a quelli di Madrid Dovrebbero essere stati momentaneamente disattivati Hanno dei problemi serissimi ai server Fonti certe dicono questo E di conseguenza si gioca un po' peggio Non è vero Cosa fai amico mio? Ma perché? Ma non è vero Ma chi sei? Ma Gigi, grazie mille Ti sfondo, vai Questo non tocca niente Arriva lì e piazza un muro davanti a quell'area Guarda che roba Guarda che roba Guarda questo non ti attacca raga Ti piazza solo sulle linee di passaggio È incredibile Le linee di passaggio Di tiro E Sto lo zano Però a 3 di piede è debole raga Vuoi ricordarmi Che palla dello zanone raga No l'avevo capito Bene GG a questo ragazzo che mi ha fatto penare con gli autoblock Vai con la terza Giva qui raga Per i sub Dovete essere qua in chat Alle 5 Bingo Chi prende il numero vince la maglietta Sei a lavoro alle 5 Vabbè non ce l'hai un secondo per fare il bingo Vai un attimo in bagno a lavoro O digli al tuo capo che porca troia ho preso gol Guarda sto molletta Bravo Pulet Eh queste sono le cose che purtroppo Gantè fa Questo era un passaggio semplice Qualifica queste cose qua Poi pesano Bravo Kylian Good job Dai Rush Rai un po' via una volta sto Renan Lodi Quanto costa Rush Tra l'altro raga Si è alzato Io ho pagato 770 Tipo Pulet Raga stasera devo uscire Ho visto una prediction C'è provisto interessante Ma spero che esca anche qualcun altro Bravo 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 Kylian Non inizia a dirmi Eh ma rimar non esce No rimar esce quest'anno raga Costo di farmi 1600 milioni di account No l'avevo capito qua Guarda quel molletta Quanto è bagato Niente raga Non si può lasciare un metro a quel molletta Che ti punisce Ma lo zano io lo amo Cioè entra e fa più cose Di quelle che fa Massimino In dieci partite Morca troia Ehi ehi Sempre rigori questi quest'anno Bravo In verità Alcuni dicono che il secondo team potrebbe essere meglio del primo Ma io le prediction che ho visto Boh Eh figurati se non c'è l'autoblocca Rompe i coglioni Fuori gioco E' buona Bravo Coolet Eh lo so che ma ne è scambiabile Però capisci da punto è più forte quel suono Per come la vedo io Guarda questo Ma Talisca non era mancino Non era mancino una volta Questo è uno di quelli che sotto il video mi ha scritto Ma perché ne ha dato 10 di C.O.C. Non hai messo Talisca Ah ma questo c'ha il 3-5-2 Questo c'ha il 3-5-2 Ecco perché Guarda quanti n'hai in area Nooo E' andato a vuoto Questo c'ha il 3-5-2 Eh di qua c'è il buco per forza Bravo Eh per forza C'ha il 3-5-2 C'ha la noglucidici Madonna Maximen Ma perché non schianti contro un petalo di rosa Signori Ma la gente non si sbilancia più su FIFA Quando perde Su FIFA 18 c'erano le fraterie Quando era in vantaggio Mo' sono tutti sempre dietro lo stesso Ma che cazzo fanno Mamma mia che giocatore Meno male che ci sei tu Meno male che ci sei tu Queste canzoni mi fanno scendere il latte ai gomiti Zapata pensaci tu Eeeh Vai Rashford Questo te gli esci C'ha la carre... No non è mai fuori gioco Tornuto Ma era sulla linea Bravo Questo era fallo raga Non fischiano veramente niente quest'anno comunque Bravo Gillian Va sul sinistro Va sul sinistro Porca troia Ma lo so pure Cioè lo so un'ora prima che va sul sinistro Riusciamo a far fallo Porca troia Ne parassi uno Va 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 Ma guarda sto rolao Adesso 3 a 2 per l'aria aperta Per quale motivo? Non puoi mai puoi tirarti su A meno che non hai veramente tanti soldi da parte O che sei enorme Non puoi mai Bravo Gillian Lo stema ambivo cancesa Non lo so che cosa sia onestamente Non l'ho combinata Eh questa inizia le partite La settima raga Quest'anno Mi credete che la settima E' tipo la quindicesima? Questa è proprio la settima partita di questa Madonna Culli Però si è già qua un filtrante epico su un bappè Sì Ho sbagliato Guarda questo E' di nuovo quella settima partita Eh 2 a 0 Settima partita quest'anno un inco Dai parti Ma Ref Ma Ma Ref Come fanno onesto e fallo? Puoi fare al massimo un gol Bravo Rashford Bravo Rashford Dai che la riprendiamo Vai Bravo Bravo Oh madonna Questa è un'altra squadra Varane Gomez Questo spammerà filtranti Ma perché ha messo il bufalo Sia su Sisokò Che su Fabio Non ci puoi fare al massimo un hop Come è piaciuto? Come è piaciuto? Silvio No mais Quindi come è piaciuto il bufalo Questa è una squadra E Lucas vola a giro di sinistro Si vola Grazie Ma tanto se c'era il R9 prima ero uguale Non pensate Cioè se c'era il R9 C'era il R9 là al posto di rimare Era uguale Non cambia niente ve lo assicuro Non è la colpa di rimare Ci sono solo doppi passi raga Dovano nerfarli Sono troppo P E sono troppo semplici da fare capite Guarda che roba Guarda che roba sta partita Guarda che roba Ma sai perché Perché quando tu Adesso lascia perdere la VL Ma quando tu sei poi in quelle partite tese Magari contro qualche pro E hai un'occasione a partita Tu già mentalmente Quando arriva Maxi Man Cioè sei sfiluciato Vi ricordate la prima volta raga Che sono arrivato 29-0 Che poi abbiamo perso la trentesimo Sono uscito Niente Devo riconcentrare Che sto riprendendo E basta Costiere in palli Please Madonna Questa è la luce O gioco col 4G O non gioco Ma pure il torneo Essendoci in quarantena Probabilmente lo giocherò in 4G Cos'è sta squadra Strana Tiago Müller Madonna Niente Rimar solo primo Non poteva segnare In quella partita Il gameplay non è così male Oggi secondo me Almeno a me Col 4G Poi No Ha tirato sul primo Ma non che qualcosa a Milano Perché loro Ti dicono Si si arriva Un giga Però a Milano Capito Ma non è che ci sia solo Milano In Italia Capite Sia sui server di Madrid Che sui server di Milano Hanno dei problemi Quindi potrebbero essere Temporalmente disattivati E qualcuno dei ragazzi Che conosco anche in chat Hanno fatto i test Per vedere a che server Ti connettono Che hanno notato Che non si connettono A Milano Ma si connettono Spesso a Francoforte Che caso strano È l'unico server Che non ha mai problemi Bravo Variante Doti di ignoranza Notevole Peccato che al primo Che vengo burgato Poi sono io Ma che modulo c'ha Si lo devo staccare un po' Raga Sbagliato Continuo a giocarmelo Ne rendo proprio conto Davanti soprattutto Sono troppo poco lucido Vai Gullit Ti prego Bravo Gullit GG GG a lui Ha giocato meglio Bravissimo dietro a giocare Oh no È quella Bundesliga No così no Eh vabbè GG per lui Giocatore che Unisce Tra virgolette Tutto Non ce ne sono Tanti come Paolini Dai ma questo usa Meunier Veramente Ragazzi Vi prego Dai Usa veramente Meunier Questo Ma come fa Come fa Non essere Ma come fa Non essere Fallo T Attenzione La rivincita Di Massimo Buona Buona Questo Maxi Man È tutto storto Tutto storto Sto Maxi Man Adrizzatelo Stavo Ho dimenticato Di saltare La rete Dai Dai che la combinata Eh vaffanculo Quello portiere Piotto Oh grazie C'è il buco Non ce la posso fare Guarda che succede Ma guarda che succede Ma guarda che succede Ma cosa devo fare Pref Bravo Bravo Kylian Non ci credo Che non è salito Il terzino Non è salito Il terzino Questo fig**o Questo Mbappé In prestito Non ci credo Che non è salito Il terzino Ma Stonbappé In prestito È Gullit Praticamente No Che fa Si è Met Poi devo vedere Su Twitter I tedeschi Che si lamentano Della connessione Li avessi davanti Di prendere Sprangate Uno dietro L'altro Ovviamente In game Dio mio Dio mio Dio mio Cazzo Un rimpallo Codo Mamma mia Quanto posso godere Una volta Una volta